1, 2, 3, 4, vai, scherzo di qualcuno, fa e non lo ha... 1, 2, 3, 4, 7, e rievo passando l'inforzo... 1, 2, 3, 4, vai, scherzo dell'altro, è un'altra cosa... 1, 2, 3, 4, stai passando l'inforzo... 1, 2, 3, 4, vai, scherzo di qualcuno, fa e non lo ha... un altro video